La vita non è altro che un percorso a passo di danza. La vita non è altro che un percorso a passo. La vita non è altro che un percorso a passo. La vita non è altro che un percorso a passo. La vita non è altro che un percorso a passo. La vita non è altro che un percorso a passo. La vita non è altro che un percorso a passo. Buonasera a tutti e benvenuti in questa splendida serata estiva all'assaggio di fine anno della scuola Angels Dance associata a FITS, Federazione Italiana Danza Sportiva. Federazione ormai riconosciuta a livello nazionale dal CONI. L'Angers Dance è magistralmente diretta, l'avete visto prima, dall'insegnante nonché tecnico della FITS Cinzia Peruso. Io sono Salvatore Sarri, ma credo che questo abbia poca importanza in questa serata. Cercherò di accompagnarvi nel miglior modo possibile in questo percorso. Grazie. 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 Grazie.